Il mio nome è Isabella Bianchini, sono nata a Roma e dipingo. La mia è una malattia di famiglia perché mia madre era un'artista e ha vissuto tutta la sua vita dipingendo. Ho fatto studi classici, quindi liceo artistico di via ripetta, con i maestri Benaglia e Fulloni e poi ho cominciato a fare un corso di restauro. Questo corso è durato anni e mi sono specializzata in questo settore. Ho fatto tanti lavori in giro per l'Italia e anche all'estero, sia di restauro che di decorazione. Adesso la mia pittura è dedicata al mondo femminile, che si esprime in modo romantico, quindi con donne a cavallo, con i tramonti, con la grande passione che ho dentro di me. Il mio desiderio è quello di creare un modo diverso di presentare le opere con tutti gli artisti, non cose personali, private, ma creare un altro modo che sia alternativo alla galleria d'arte, ai soliti cliché di presentazione. Sono tra i fondatori del gruppo Focus Group Art su Facebook e tutti gli anni realizziamo almeno due mostre in cui partecipano circa 300-400 artisti. Creiamo un catalogo e tutto veramente a prezzi emotici. Questo ci consente di avere un bacino di persone che partecipano e vivono con noi questo entusiasmo. La nostra speranza è di continuare così, anzi di trovare location non convenzionali che ci permetteranno di farci conoscere meglio dalla gente, fuori dai soliti binari per artisti. Noi siamo persone e siamo molto bravi nel nostro lavoro. Grazie.